Come si sta prendendo, o come ho visto io che si prende ayahuasca in Europa è diverso, non si cerca poi tanto, non si cerca poi tanto il terrore, non si cerca tanto quella sviluppare il kakaram. Forse perché è un'altra cultura, l'Ishuar è una cultura molto guerriera, sono i famosi hibaros, adesso si è cambiato il nome perché per loro hibaros è despettivo, significa selvaggi, sono i famosi riduttori di teste, quelli che tagliavano la testa ai nemici e facevano tipo un portachiave, così piccolino. Prendendo l'ayahuasca di lì, arrivando in Europa non si usa tanto quel ricercare dosi enormi, quel terrore. Si è più, come io ho visto che sta succedendo, si è più preso una strada più di sviluppo personale, più di conoscerci meglio. Quello che diceva Andrea all'inizio, la nostra cultura abbiamo perso quella, quello che si chiama in inglese enchantment, non so come si può dire. L'incanto. L'incanto, si è perso l'incanto, proprio o la magia, per rifiuto di entrare in stati diversi da quello quotidiano, stati di coscienza. Per cui c'è come un gran bisogno, una direzione verso quegli stati, è come se vivessimo in un paese enorme e non fossimo mai usciti di casa. E' come tutto un mondo che è lì, anzi che in questa cultura neghiamo che c'è. In psicologia, per esempio, io ho fatto psicologia qui in Italia, ho studiato a Padova, lì ci insegnavano che c'è lo stato di vigilia, normale, buono, lo stato di sonno, anche buono, e poi tutti gli altri patologici, tutto il resto che non è essere sveglio o essere addormentato, malissimo. Stiamo parlando di patologia, esce dal normale, esce da quello che è considerato sano. Per cui si sta, quello che vedo, la maggior parte delle persone che inizia a prendere Ayahuasca, è perché sta rispondendo a una chiamata, che io penso che ce l'abbiamo tutti, una chiamata alla conoscenza. E' un po' la stessa chiamata che hanno sentito gli umani esplorando questo mondo, tutti gli esploratori. sempre c'è stata questa voglia di sapere cosa c'è al di là del mare, cosa c'è in posti dove mai nessuno è andato. Adesso nel nostro pianeta è pressoché tutto già esplorato, ma dentro, dentro di noi ce n'è, ce n'è tantissimo da esplorare. Per cui c'è questa tendenza fondamentale nostra a conoscerci. Ed è quello che succede prendendo Ayahuasca. Se andiamo al di là di quello che è la nostra coscienza quotidiana, molto basata nella ragione, nell'intelletto, nel linguaggio, nel progettare, progettare molto prendendo elementi del passato per poterli pianificare, progettare nel futuro, per cui parecchio svincolata dal presente, è tutto un modo, il modo che in psicologia si considera l'unico sano, è un modo molto operativo di soluzione di problemi, di funzionare in una società complessa, e come stiamo sempre lì, provando a risolvere problemi. Con l'Ayahuasca quel modo di funzionamento, che è chiaro che non è l'unico, anzi, si dissolve, si rilassa. Entriamo in contatto con quello che c'è al di là di questo modo. Cambiano anche le onde cerebrali del funzionamento del cervello. Entriamo di più in quello che potrebbe essere il mondo onirico, il mondo del subconscio, tutto quello che noi non vediamo normalmente. E lì c'è della saggezza, lì c'è degli insegnamenti, ci sono delle cose che ci possono aiutare, che ci possono anche diventare, far diventare di più quello che siamo. Si potrebbe dire che bere Ayahuasca ci aiuta a scoprire o a creare la nostra anima, che siamo al di là della nostra piccola individualità. Una cosa molto interessante che ho visto in gruppi di Ayahuasca è che le separazioni individuali di ogni persona, anche loro si diffuminano, si diffondono. E' molto comune avere un'esperienza di coscienza di gruppo. Iniziamo, i livelli di empatia alzano tantissimo, iniziamo a sentire quello che gli altri sentono anche. E iniziamo a sentirci non tanto come degli esseri isolati, ma iniziamo a sentirci come parte di un tutto, come contribuendo a quello che sta succedendo nella cerimonia. ed è un'esperienza per me bellissima, perché una delle, come le grandi, la grande causa della sofferenza come esseri umani è il pensare che siamo separati, da quello che ci circonda. Un po' come che veniamo a questo mondo, noi siamo una cosa diversa, è un mondo che può essere ostile, che ci può ammazzare. Ed è, uscire di quella individualità ci permette di rilassarci un po', di sentirci che siamo anche, che non siamo diversi, non siamo diversi di quello che c'è fuori, che non siamo una cosa tanto diversa di quelli che ci stanno circondando. E lì il livello di paura scende molto, anche. Questa è una delle cose più interessanti che ho visto. Anche il livello di empatia, riuscire a diventare più empatico, aiuta a migliorare le relazioni interpersonali. Un'altra cosa anche che ho sentito dire molto dei partecipanti alle cerimonie e come le loro relazioni familiari o relazioni di coppia sono migliorate. Perché si sviluppa, si coltiva quella capacità di sentire l'altro, di ascoltare l'altro, che è la base di una buona relazione interpersonale. Poi anche il fatto di riuscire a vincere le paure fa che le persone possano vivere più felice e anche con più gratitudine. Se smettiamo di usare la nostra energia psichica a immaginare futuri disastri o immaginare quello che può accadere di brutto o di provare a risolvere possibili problemi, se smettiamo di fare quello riusciamo a entrare nel momento presente e sviluppare gratitudine semplicemente per il fatto di essere vivi. È un po' come un circolo, invece di un circolo vizioso, è un circolo virtuoso. Più gratitudine c'hai verso l'intorno, più l'intorno risponde. Ho seguito gruppi già per quasi otto, questo è già l'ottavo anno, l'ultima cerimonia che ho assistito, che è stata fine settimana scorsa. Normalmente iniziamo ogni persona, sono gruppi di una 20-25 persone e all'inizio ognuno parla di come è la sua vita, cosa sta succedendo. E questo fine settimana è stato bellissimo, ognuno proprio un livello di gratitudine verso la loro vita. Mentre parlavano mi ricordavo di loro otto anni fa, che molti di loro erano in una situazione di sofferenza, veramente. È stato molto bello il vedere come in questi otto anni di lavoro sono riusciti a trasformare le loro vite, trasformarle in qualcosa che vale la pena di essere vissuto. E lì si vede proprio felici, con gratitudine. Per me è un concetto molto importante, anche l'ayahuasca ti insegna a essere grato, a dare grazie di tutto quello che c'è. Come ho il tempo? Sono mezz'ora. Questo è da lavorare con i svizzeri, ho sviluppato questa cosa qua. I svizzeri quando fanno un turno diciamo ah finiremo alle 12, e tra le 12.00 l'ultimo partecipante finisce di parlare, io guardo, non so come fanno. Può essere anche qua 20.01. Complimento. Grazie. Allora, la prima domanda qua è, esiste madre ayahuasca o è solo nella nostra immaginazione? Io questo risponderei citando Harry Potter. Allora c'è Harry Potter che le chiede a Dumbledore, il gran maestro, se quello, aveva fatto qualcosa di magia, se quello lì era reale o era solo la sua immaginazione. e Dumbledore gli dice molto seriamente, cosa ti fa pensare che la tua immaginazione non è reale? Poi l'altra domanda, l'utilizzo della ayahuasca può dare, o deve essere abbinato alla meditazione, può essere considerata una scorciatoia, non è pericoloso utilizzarla senza un percorso precedente? Sono tre domande. Ok. Quello che ho visto è che molte delle persone che vengono a queste cerimonie hanno un percorso di pratica di meditazione. E' come... Non è tanto sorprendente che quelli che praticano la meditazione sono persone che si sentono chiamate a un percorso spirituale, a un apprendistato, a un scoprire veramente chi sono. E la ayahuasca può aiutarli in questo cammino. Poi la maniera in cui ho visto che si fanno i rituali con questi gruppi, c'hanno dei... C'hanno molti momenti durante la cerimonia in cui si pratica la meditazione con la ayahuasca. Ore di silenzio, l'attenzione diretta al respiro, diretta al momento presente. Per cui, come si sta manifestando la ayahuasca in Occidente è molto abbinata a questo qua. Anche alle volte io vedo questo movimento della ayahuasca come una continuazione di quello che è successo negli anni Sessanta con le discipline orientali, con il yoga, con la meditazione. Prima i giovani andavano tutti in India, adesso tutti vanno in Amazzonia, ma più o meno è la stessa storia. Una scorciatoia. Una scorciatoia dove? Non c'è nessun posto dove arrivare, veramente. Per cui non c'è molto senso la storia della scorciatoia. si può dire che sì che ho visto persone in cui la ayahuasca non aiutava. Chiaro non è una sostanza, una panacea che tutti che la prendono progrediscono e diventano migliori. No, c'è tantissima gente che prende ayahuasca e anzi diventano peggiori. C'è gente che ha fatto delle gran brutte cose con l'ayahuasca. Gli stessi indiani Shuar prendevano anche l'ayahuasca per andare ad ammazzare quelli della tribù accanto. Non è che sia una sostanza angelica che in sé la prendi e ti rende buono. No, è una sostanza che aumenta quello che c'è. E' come il fuoco, tu lo puoi usare per il bene, e lo puoi usare per distruggere. L'ayahuasca è uguale. Per cui ci sono delle persone che non è solo che non sia una scorciatoia, è che è tipo un ostacolo, diventa un ostacolo. Personalmente penso che dipendere troppo di una sostanza esterna c'è qualche pericolo lì. Secondo me un percorso di sviluppo autentico deve essere indipendente di se puoi trovare un'aliana vicino o no. E finalmente non è pericoloso utilizzarla senza un percorso precedente. Certo che è pericoloso. È come tutto quello che ha potere. È pericoloso. Un coltello è pericoloso. Serve tanto ma puoi ammazzare con un coltello. Ho visto gente che non li ha fatto bene. Mi meraviglia che non ci siano di più. Mi ha sorpreso tantissimo mi sorprende ancora la mancanza di incidenti, la mancanza di persone che siano danneggiate. in sé quello mi fa veramente ammirare l'ayahuasca come una sostanza molto sicura comparata con altre sostanze come l'LSD per esempio con l'LSD sì che ho visto parecchi incidenti. ma c'è una diversità magari è il fatto del dosaggio che si può prendere una dose altissima di LSD molto facile perché non ha sapore non ha odore poi e prenderti una dosi che o ti illumina o ti distrugge con l'ayahuasca è un po' più complicato prendere una dosi grande di ayahuasca bisogna proprio volerla avere veramente per cui c'è questo come si dice come meccanismo di sicurezza incorporato. La domanda è vorrei sapere se sono attualmente disponibili studi statistici sui benefici terapeutici dell'ayahuasca se non esistono se è previsto progetti di questo tipo grazie. Non ci sono stati molti studi scientifici perché non è facile nell'ambito scientifico trovare dei fondi per fare delle ricerche su questo campo e poi anche prima di fare degli studi su i benefici terapeutici ci sono tantissimi studi previ che bisogna avere fatto internazionalmente un punto che è un posto dove fanno ricerca a alto livello è l'ospital San Pau di Barcellona il dottor Giordi Riba e il dottor Bouso loro hanno iniziato per quello che è l'inizio tipo studio farmacologico di quello che succede al corpo umano quando prende ayahuasca al di là degli effetti psicologici e hanno visto che non c'è tossicità nel senso non è patotossica non è neurotossica è una sostanza sicura in quel senso lì hanno visto che provoca inalza la tensione per cui persone che hanno ipertensione non è consigliabile o problemi cardiaci non è consigliabile prendere ayahuasca come non è consigliabile fare della scalata per esempio ma fondamentalmente questo studio ha delimitato che non c'è una non c'è una tossicità credo che gli studi sono disponibili su internet anche se mettete ayahuasca e dottor Giordi Riba R-I-B-A e trovate tutto poi dopo quello hanno fatto studio a livello prima di vedere se si può lavorare in terapia volevano vedere quali sono gli effetti a lungo termine di prendere questa sostanza e hanno fatto uno studio molto molto lungo e complesso longitudinale in Brasil in Brasile comparando comunità di uno stesso livello socioculturale comunità che non prendevano ayahuasca e comunità che si prendevano ayahuasca e le hanno fatto le hanno fatto passare tutta una batteria di test psicologici misurando diverse caratteristiche della personalità di diversi valori e hanno fatto anche uno studio longitudinale mi sa che è durato come 12 o 15 anni adesso non mi ricordo dall'inizio alla fine dello studio hanno comparato i risultati delle stesse persone 12 anni prima e poi 12 anni dopo i risultati sono stati molto positivi anche molti valori sono stati superiori nella comunità che si prendeva ayahuasca a livello di personalità di equilibrio della personalità a livello anche di comportamento sociali le comunità che prendevano ayahuasca avevano un livello di criminalità e di alcolismo molto più basso per cui si è visto anche che non la conclusione è che non ci sono stati deterioro cognitivo che quello era molto importante anche sapere se dopo tanti anni di prendere ayahuasca ci potrebbe essere qualche deterioro cognitivo e no al contrario hanno trovato miglioramento in qualche aspetto e poi adesso gli studi che stanno facendo adesso vogliono sapere cosa succede a una persona dall'inizio da che prende ayahuasca perché un po' la limitazione degli studi precedenti è che c'è quello che si dice un'autoselezione loro non hanno potuto intervistare le persone che magari hanno preso ayahuasca e non hanno avuto una buona esperienza e sono andati via per cui quelle persone non sono state studiate allora vogliono un'altra possibilità è anche che le persone che siano rimaste 25 anni a prendere ayahuasca abbiano fatto un'autoselezione e siano superiori agli altri come una maggior resistenza o maggiore capacità e per quello fanno così buoni risultati nei test per cui adesso lo studio è prendere persone qualunque normali che non hanno mai preso ayahuasca e iniziano a fare dei test prima di prendere ayahuasca e dopo sarà anche lì uno studio longitudinale che prenderà tempo veramente c'è bisogno di questi di questi studi quello che stiamo vedendo per esempio con con la marihuana è che c'è un movimento da quello che ho sentito in Stati Uniti velocissimo verso la legalizzazione e quello è stato possibile perché ci sono stati tantissimi studi tantissimi studi dimostrando che non è specialmente pericolosa come come sostanza quello ha permesso il potere rispettare questo qua che parlavamo della libertà cognitiva nel senso di dire non c'è la ragione per questa proibizione così così totale per cui con l'ayahuasca speriamo sperando che segua un percorso similare si farà attraverso di più di più studi per cui se c'è qualche scienziato fra di voi vi vi invito a a lavorare in questo campo chamei chamei o rei das flore se mi responde e o rei ayahuasca E lì doma e a jè E a rì e a yahuasca O rì e a yahuasca E lì doma e a jè